Allora Ok, ho già fatto tutto Mi smuto Ah, questo duet pelato Antras Killer che lagga fisso Ce l'ho dietro di me Di base Allora, o è bugata la skin O è successa una cosa stranissima Tipo? Tipo l'ho vista tirare sulla laccetta In mezzo secondo, letteralmente Tipo Ha portato l'animazione La prima volta, poi non più Sto guardando anch'io Adesso si muove Ma porco, la smetto di incastrarmi? Letteralmente Sì, comunque è lagga, io vedo Cosa del kill Magari era solo lag in quel momento Mi sono incastrato 12.000 volte Non ho avuto un path per niente decente Vabbè Non ho neanche usato agilità Sì, però è solo stata una cosa di lag Che non mi ha fatto vedere l'animazione Mi appende tra 3, 2, 1 Ora Arrivano da voi due Arrivano da voi due Vai, vai, vai Vabbè Vabbè, uno un hit Sì, per forza Ciao, Eddy Buonasera Non troppo bene Va bene Un po' di mal di stomaco Hai visto quello che intendevo Non ho fatto l'animazione Non ho fatto l'animazione che la tirava fuori Oh, magari città sul serio, eh Nel senso No, c'ho emorragia Fa il jump, fa il jump C'ho emorragia Eh, vabbè Ho fatto uno critico Ma porco Due Sta andando verso quello da solo Ok Devi andare tu Allora fare il save No No, non era da quello da solo Era da noi Ok, perché in realtà è radato verso di voi Vado Comunque sono io Vado io Eh, vengo anch'io Perché tanto stare lì a shock Non mi serve a niente A questo punto Rizzettiamoci un attimo Prima lui Questa è la meglio prima Perché va da sloppy Ma dettagli Stai ricaricando Stai ricaricando Sì E' cura, mannaggia È molto forte in realtà Però è lento un po' È un po' lentino Però ti velocizza veramente tanto A fare jump Se riesci a starci appiccicato Allora Io di là Ok Porco due Eh, non l'ha tolta fuori Vengo Provo a fare una pazzia Sono io già qua Tranquilli Faccio una pazzia Ma non mi vedrà mai Sono un Dwight pelato Non mi può vedere Mi ha visto Sono anche incastrato Bravo Snakes è fortissimo Sto facendo un gel No, ok Sta chittando Raga Non l'ha lanciata Si è teletrasportata Su di me L'accetta Fisicamente No, no Qua non stanno più laggando Raga Questo è cheat Si, non si vedono le asce O le cariche istantaneamente O ti arrivano istantaneamente Vado a fare 6 Immediato Si, immediato Vado io Si, secondo me si Mamma mia What the fuck Bene, sentiamoci un attimo Si sta citando Ci si è teletrasportata su di me L'accetta Non l'ha tirata fuori Si, si, si Ma abbastanza palese Vabbè Cerchiamo di fare il genno A sto punto Sta anche laggando Oh mio dio Sta arrivando a parte di voi A scatti A scatti Ma mi sembra anche Straveloce È una mia impressione Dovevo camminare veloce Si è fatta tutta la mappa In mezzo secondo Si, si È arrivata Dopo mezz'ora L'ha lanciata L'accia Non l'ho mai vista sbagliare No, io sì All'inizio me l'ho sbagliata tante Però erano comunque sussa Cerca di attaccarti a un gen Furfi Eh sì, sono Ti sto mettendo le chiappe in faccia Ok Sta tornando Ah, anche aimbot Anche aimbot Sai perché anche Quando ero nell'angolo Ho visto che si è girata Scatto verso di me Secondo me c'è anche aimbot Tengo il muro così Sa anche che sono qua dietro M1 Ma chi deve fare quei gen Che dì Che dì che ho avuto Stavo sbagliato E qua Ha anche un totem Ha un totem acceso main Ok Sarà Dove per fare il maori Probabilmente Devour intendi? Sì Mi so che mi molla No Si riesce a farlo tu? Chiuso Ok faccio il totem Potrebbe No No vabbè No no Ciao Buonasera cara Come stai? Che schifo Che schifo Che schifo Mi fa anche sissi Ah era Ok era maledetta Era maledetta Giustamente Ci potevo pensare Non ha fatto Il one shot finora Io minchia Uno così Che fa anche sissi Gli tirerei Calci nei coglioni Fino alla gola Gli li farai arrivare Cazzo Io non accuso molti Di cheating Però questo è veramente Tanto 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 Su Ocio broni Che ti puoi shottare Sei exposed Sì Siamo tutti exposed Sì sì Ma beh Lo dicevo Mi ha visto Era all'angolo Secondo me C'è anche qualcosa Come aimbot Che gli giro La visuale Verso dove siamo Magari non ho luck Ma aimbot Sono abbastanza sicuro Sicuro? Sì Resettiamo Dispiace Lo devo sentire Che cosa Scusa Ragnar Ho finito Di lavorare Proprio qua Che lavoro Fai Mertilla Vabbè Di pure no No Grandissimo Dai Ci manca un gen Possiamo recuperarlo Secondo me Comunque Magari Non usciamo In 4 Ma almeno In 2 Secondo me Possiamo uscire Facciamo questo gen In un attimo Vai vai Spariamo Facciamo Brune appeso Nel caso Dici se viene qua Viene mid Viene mid Viene mid Viene mid Viene mid Viene da noi Ma che sta facendo No Allora facciamo il gen Vai Lasciamo un bro di morire Che se ne fai il bro No sta arrivando Sta arrivando Sì viene qua Vai tu a fare save Sì Definitivamente Sì Sì Va che roba Era instant Questa no Arrivo Anche questa Era instant Catta proprio le animazioni Abbiamo appena fatto Una imbottata Istantanea Di nuovo Questa vabbè Questa ci stava Veramente si può mettere Le animazioni Una cosa che ti Punta automaticamente O sta laggando No sta laggando anche tanto Questo è vero Eh I'm dead as well Rip me O è davvero Che sta laggando Così tanto Che non si vede L'animazione Ma non gli da neanche Il ping rosso Capito E questo è il problema Redbox e aimbot Sì può essere Perché anche No Ok bo Se almeno uno si salva È worth Per quanto mi riguarda Eh ma adesso Viene da me Sì Elmo o Connor Vediamo Livello 9 Ah potrebbe essere Lagg Perché è americano Sì lagg Switch C'è qualcosa Comunque che Non si può Viene verso di te Furfi Visto Ti hai già visto Furfi Non è der Se corri sì però No no cammina Guarda qua Lei ora t'ha visto Lei ora t'ha visto No No L'ho già visto la prima Perché qualcuno è normale Qualcuna no Cioè è proprio strano Non posso Non posso nulla Ah beh ci abbiamo provato Dai Guarda Non ha fatto animazione Cioè ho capito che era caricata al massimo Ma proprio non si è neanche vista Partire Cioè partire sì però Questa Questa l'hai vista Dietro il muro Ci può anche stare Dietro l'albero No ma quello ci sta Perché in realtà Il tuo hitbox era ancora Che stava girando Però È proprio il fatto Che non si vede La traiettoria Capito Non fa traiettoria Lui dove mi era L'accetta arriva Fine Che cazzo fai così Che pure no Che st'altra C'è una pistola Sì letteralmente Sta andando in giro Con la pistola Ah vorrei fare una battuta Io dico solo comunque che Viene dal Messico Albuquerque Mi tira pure l'accetto New Mexico Non lo so Non si vede tipo la città Esatto Andiamo subito raga Non aveva neanche aura reading Andingo Andasus Sì sì Questo è da segnalare subito Né aura reading Niente Albuquerque Walter White Elmo O'Connor Non poi sembra laggare solo le accette Per il resto Non mi sembra laggasse in game Non ti insulta E dove faccio Era comunque susso Per quanto mi riguarda E' stato un po' di più 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 di